Ciao amici di Italiato Games, buongiorno e buona domenica! Come di consueto andiamo a girare i giri gratis, questa settimana è una versione molto ridotta perché i giocatori gratis sono solo due, il ticket messicano e il giocatore gratis della settimana. Basta il giro gratis dei giocatori della settimana con l'evento sempre messicano. Non giro il Pool Champions perché avevo due obiettivi, uno era il De Bruyne Super Super e l'altro era con Luis Alberto, ma in tanti di voi me l'avete proprio distrutto. Allora niente, avete vinto, mi avete smosciato e non giro il Pool Champions. Quindi oggi solo giri gratis, giri, giri gratis. E vediamo se magari tra i giocatori della settimana c'è qualcuno che entra in rosa per le partite di questa sera. Se non l'avete vista e recuperate le partite ieri sera del campionato, soprattutto commentatemi l'ultima azione e l'ultima partita. Io non ho imprecato in tutte le lingue del mondo perché sennò vi dovevo bruciare un altro video e non me ne andava. Comunque andiamo a giocare il ticket del campionato messicano che indubbiamente ci darà uno di quei giocatori indimenticabili che entrerà come titolare nel mio Dream Team. Perez. Perez, una stella, non lo andiamo a mettere in squadra, ma indubbiamente sì. Ma neanche in quella per gli eventi messicani Perez entrerebbe. Va bene. Allora, attenzione, il contratto a quattro stelle sta per scadere. Allora, andiamo subito a prendere un giocatore di cui ho letto molto bene. Quel muriglio. Io lo prendo, tanto poi se qualcuno mi sa dire perché è così forte e perché meriterebbe di essere preso in considerazione, sviluppo meglio di bastoni, ok? 23 livelli di crescita, però io tanto lo prendo perché tanto il contratto a quattro stelle mi scade. Ed eccolo qua. Muriglio. Attendo vostri sul muriglio, eh. Attendo vostri, sono curioso. Adesso poi ho pure valutazione di... Non entra sicuramente in rosa, ma un domani, chissà se davvero è così performante. Tanto, buonanotte, non l'avrei utilizzato. E neanche Pablo Torre. Probabilmente neanche Muriglio, ma avevo il contratto in scadenza. E quindi lo sono andato a utilizzare. Allora, giocatori della settimana. Allora. Qualcuno, tra cui Lorenzo, dice che Keller è un ottimissimo portiere bustato, eccetera, eccetera. Magari uno lo va pure a provare. Il resto, Kivior, terzino difensivo, o Costa Curta, mille volte meglio. Modric, sì, Modric molto, molto. Sarebbe in lieto. Ma anche Vlauic. La pace d'aria è a 96. Non è proprio nel mio stile di gioco, ma ci si può provare. Ci si può provare. Che abilità giocatore ha? Specialista di legori, colpo di... Vedevo se era anche un'ipotetica riserva di lusso. No. E Dybala. Dybala, attaccante di rientro. 94. Io reputo migliori sia nei Mark e Roderigo che già ho. Però, però, però... E, ripeto, Modric ne sarei ultra contento di provarlo con questi parametri. Quello che già ho a me piace tantissimo. Ma proverei volentieri questo super sub. Rafinha no, Rafarsilva no, Minamino no, Keller. Magari lo provo. Kamara no. Akanji pur incontrista 93. Vogliamo togliere il posto a Rüdiger. Se devo togliere il posto a Rüdiger uso allora Rice. è bassa e pure sviluppo. No, non mi convince. Va bene, quindi speriamo di vedere Spagna o Italia. Spagna o Italia perché... Obiettivo numero uno Modric. Obiettivo numero due Vlaovic. Obiettivo numero tre Dybala. Ma Dybala un po' meno perché Vlaovic è bustato. Parte da 96. Mi interesserebbe parecchio. Allora, andiamo a girare e vediamo se escono Vlaovic o Modric. Maglia bianca. Oppure anche quel Kalea. Kalea. Andiamo un po'. Di Liga o Campionato Italiano. Premier League. Se proprio... Liga Spagnola. Modric! Finalmente! Finalmente un buon giocatore della settimana. E poi gratis. Neanche girando. Proprio il giocatore che volevo. Dopo tante settimane andate a male. Ragazzi, a me questo Modric così. Soprattutto riserva di lusso. E... Andiamolo un po' a confrontare con quello che già ho. Soprattutto. Il confronto è con lui. Allora... No, partita mi sono sbagliato. Schema di gioco. E qui avevo quello per il campionato messicano. Rimettiamo la squadra... Quella come si deve. Allora, sostituti. Qui abbiamo questo Modric. Modric 98. E abbiamo questo Modric che era 94, mi sembra. Eccolo qui. Allora. Sostituti. Andiamolo a confrontare con quello che già ho. Allora. Ha un punticino in meno rispetto a quello che già ho, eh. Però, vabbè. Andiamo a vedere. Allora, comportamento offensivo è meglio quello vecchio. Controllo palla è meglio quello nuovo. Dribbling è meglio quello vecchio. Possesso stretto è meglio quello nuovo. Passaggio verso terra è meglio quello nuovo. Passaggio alto è meglio quello vecchio. Finalizzazione meglio quello nuovo. Calcio da fermo meglio quello nuovo. Tira giro meglio quello nuovo. Velocità meglio quello vecchio. Accelerazione meglio quello vecchio. Potenza di tiro meglio quello nuovo. Salto, vabbè, uno in più. Scontatto fisico, due in più. Controllo corpo meglio quello nuovo. Resistenza meglio quello nuovo. Comportamento offensivo tutti e due un po' meglio quello vecchio. Aggressività meglio quello vecchio. Coinvolgimento difensivo meglio quello vecchio. mica lo so se mi conviene togliere quello onnipresente controllo palla ce l'ha tanto alto il possesso stretto il passaggio raso terra il passaggio alto un po' più basso non lo so abilità giocatore vediamo a riserva di lusso passaggio doppio tocco al giro distante lancio lungo passaggio calibrato esterno a giro intercettazione leader però questo fatto della riserva di lusso per il momento mi fa prediligere il nuovo perché difficilmente Modric giocherebbe titolare e lo andiamo a provare e poi vediamo quello che accade e allora ragazzi io vi auguro una buona domenica una buona giornata ci vediamo questa sera per il campionato vediamo che succede dopo ieri tre partite ostiche difficili pochi punti abbassamento del ranking speriamo stasera di riprenderci ultimi giorni di season vediamo vediamo quello che accadrà buona domenica ragazzi e stasera ciao 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 Grazie.